Entro questa settimana capiremo quale sarà il destino di Facundo Lescano, senza entrare nel merito delle scelte tecniche e gestione della vicenda completamente sbagliata. Il chiarimento confronto sarebbe stato auspicabile per tentare quantomeno di ricucire e invece nulla di tutto ciò. Ad oggi Lescano, reduce da quattro panchine di fila, è il miglior marcatore del Pescara con otto gol e cinque assist, tre dei quali finalizzati da Cuppone. In campo tra i due era nata un'intesa perfetta. All'attaccante italo-argentino è interessato il Padova, che in realtà, storia di venti giorni fa, ha fatto solo un sondaggio. Per contro la Feral Pisalò ha presentato in sequenza due offerte rifiutate dal Delfino e così il club Lombardo ha messo nel mirino spalluto. Nel frattempo Delicarri è al lavoro per innervare l'attacco, arriverà un esterno mancino. Dalla scorsa estate piace il 22enne Merola, che però non è in uscita dal Cosenza. Lo è Brignola, non esattamente il profilo ritenuto funzionale. A centrocampo serve una mezzala di inserimento che attualmente non c'è. Gli annoni del Perugia e Garofalo della Brescia, i primi nomi della lista, al momento non sono sul mercato. Se invece la scelta fosse quella di aumentare la qualità, l'obiettivo sarebbe il 29enne Igor Radrezza, che a Padova continua a fare panchina. In uscita, Saccani, probabilmente De Marino, Crecco, a cui sembra molto interessata l'Ancona, Daloya, Ingrosso e Germinario, che non è più nel mirino del Cerignola. La squadra deve ritrovare la solidità sbarrita. Lo dicono i numeri, che per antonomasia sono inconfutabili. 15 gol subiti nelle ultime otto gare, di fatto due di media partita. Il problema riguarda la distanza tra i reparti, dunque sostanzialmente di natura tattica.